Tra nuove assegnazioni e risorse sbloccate, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha messo a disposizione per le scuole e gli enti locali della Calabria fondi per 806 milioni di euro. Si tratta di risorse sbloccate e aggiuntive che si aggiungono a quelle del PNRR. Il dato è riportato in una scheda sul sito del Ministero in occasione della visita del Ministro Giuseppe Valditara in alcuni istituti di San Luca, Platì e Bovalino, in una zona, la Locride, dove più forti sono i temi della dispersione scolastica e dell'emergenza educativa. Sono stati finanziati i progetti presentati dalle province calabresi per la costruzione e realizzazione di nuove palestre e messe in sicurezza delle palestre e degli spazi sportivi esistenti. Per asili nido e scuole infanzia verranno incrementati il numero dei posti e quindi il servizio educativo nella fascia di età 0-6 anni. Un'altra parte è destinata per la costruzione e messa in sicurezza di mense scolastiche per incrementare il ricorso al tempo pieno e contribuire a contrastare la dispersione scolastica. Le scuole potranno così attivare azioni formative per il potenziamento delle competenze di base, ovvero azioni formative di tipo laboratoriale. Il resto è stato destinato agli istituti tecnologici superiori principalmente per il potenziamento dell'offerta formativa.